Bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua con il tutorial sulle skill Se vi piacciono questi video mi raccomando iscrivetevi al canale Attivate le notifiche e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Molti di voi magari seguono il video senza iscrivervi Perché pensano magari non serva ma raga è molto importante per supportare quello che faccio E in generale i miei video è gratuito quindi mi raccomando iscrivetevi Avete votato come voi quale sondaggio far uscire Cioè quale tutorial far uscire tramite appunto un sondaggio Ha vinto quello delle skill quindi andremo a vedere quali sono le migliori skill Più metal e più interessanti da utilizzare Poi magari ce ne butto dentro qualcuna che piace a me Però generalmente andremo a vedere come fare queste skill Quando farle e come funzionano Andremo a vedere in arena come farle e come mettere il corpo eccetera eccetera Ma prima di andare a vedere questo secondo me ragazzi è molto importante Dirvi e ricordarvi una cosa È importante che conosciate il menu Di fatto se voi andate in impostazioni e andate qua Trovate questa tendina qua che ho scritto mosse abilità Questa finestra che vi permette di andare a vedere come si fa Ogni singola mossa abilità praticamente tutte Non tutte tutte ma quasi tutte E quando si possono fare in base a quante mosse stelle servono Due stelle, tre stelle, quattro stelle Quante stelle sono necessarie per fare ogni skill Che tasti utilizzare Nel mio caso li state vedendo ora su Xbox Ovviamente perché sono come vedete anche dal pad sotto su Xbox Ma ovviamente da PlayStation stessa cosa Vi dirai i tasti di PlayStation Ovviamente ricordate che LB sarebbe L1 su Play LT sarebbe L2 su Play RB sarebbe R1 RT sarebbe R2 La A sarebbe la X di Play e così via Cioè il posizionamento che vedete qua sotto nel controller è identico Cambia solo il nome Quindi se voi guardate il controller vedrete comunque Lo stesso movimento che dovreste fare anche qualora foste su PlayStation La prima skill che secondo me è molto importante analizzare Che è una skill da mossa abilità da due stelle È il ball roll Secondo me è fondamentale Qua è chiamato come trascina la palla con la suola verso sinistra O verso destra Sotto vediamo invece la crocchetta Che è nient'altro che appunto un ball roll potenziato E generalmente come si fa? Bisogna semplicemente con l'analogico destro Che ora vedete sotto che sto girando a caso Fare in una direzione Quindi se vogliamo fare con la suola verso sinistra Verso sinistra O se no verso destra Quindi molto semplicemente Basterà farlo in una direzione in cui vogliamo Mantenendo però a mente che ovviamente è molto importante Il corpo che sia nella direzione giusta Io vi consiglio sempre di provare queste mossa abilità O in provabilità In allenamento eccetera eccetera In modo che le provate Le testate E poi insomma avete modo di provarle per bene Ora io per dire sono con Neymar Come vedete con l'analogico sinistro Sto andando avanti col corpo verso la porta Per fare il ball roll a destra Faccio l'analogico verso destra e basta In questo modo molto semplicemente Ho fatto verso la direzione in cui volevo uscire Se voglio farlo verso sinistra Analogico sinistra Se voglio farlo verso destra Analogico verso destra E così via Sempre con l'analogico di destra E in questo caso però perché sono con il corpo standard Verso avanti Quindi verso avanti Verso l'alto Però se con il corpo siamo di qua Quindi verso sinistra Come vedete Anologico sinistra Verso sinistra Cambia Perché voi per andare con il ball roll a destra Dovete farlo verso l'alto O ball roll a sinistra Verso il basso Questo perché? Perché ovviamente La direzione della finta Va fatta nella direzione In cui il corpo Cioè rispetto alla direzione In cui il corpo sta andando Quindi se il corpo sta andando A sinistra Per andare a sinistra Dovete andare verso il basso Perché è sempre Diciamo a 90 gradi Rispetto alla direzione Del corpo Questo è molto importante Da ricordare Quindi vedete anche sotto Guardate sotto l'analogico Io sono verso sinistra Quindi analogico verso il basso O analogico verso l'alto Se voglio andare in quelle due direzioni Questo poi è applicabile In tantissime situazioni Ora Dove è molto importante questa finta? Per posizionarsi per esempio al tiro Quindi analogico E poi tirate In questo modo Vi posizionate meglio Potete tirare con più precisione Poi è molto importante Anche per dire Per saltare il portiere Quindi quando gli siete Completamente sotto Però quando gli siete sotto Fate analogico Saltate il portiere Tirate a rete Molto semplicemente Altra situazione In cui è molto importante È Quando avete un uomo vicino Quindi per dire O generalmente Quando volete fare un passaggio È che sia meno prevedibile Quindi per dire Avete l'uomo alle spalle E voi andate in una direzione Fate l'analogico Nella direzione in cui Non è il giocatore E poi passate il pallone In questo modo Avete più probabilità Che non ve lo intercetti E soprattutto Manderete anche fuori tempo All'avversario Oppure banalmente Può essere anche semplicemente Per concatenarla Poi con una finta Quindi mandate fuori tempo E poi fate Che ne so Lo scoop turn O altre finte In base alla situazione Il buon role Applicabile e concatenabile In un sacco di situazioni Quindi poi lì sta anche a voi Capire quando ha senso Concatenarla E quando non ha senso Seconda finta Molto importante È il doppio passo Come vediamo E leggiamo qua Dalle molse abilità Anche qua va bene Avere un giocatore a due stelle Però ricordo che Più le stelle sono alte Più le statistiche Di dribbling Controllo E ha il trait Di dribblatore veloce Tutta questa serie Di informazioni E di caratteristiche Aumenterà La velocità E l'efficacia Della finta Quindi fate Ovviamente non è che vi basta Avere Ranocchia Se non so Quante stelle schi L'ha Però insomma Un difensore Fate le molse abilità E le farei alla stessa Abilicità E Neymar Quindi ovviamente Tenetelo sempre a mente Doppio passo verso destra Qua come vedete Analogico Dall'alto Un quarto di luna No mezza luna Un quarto Dell'analogico Nella direzione In cui vogliamo farlo Dall'alto verso il basso Quindi Se vogliamo fare il doppio passo Partendo da destra Dall'alto verso destra Invece verso sinistra Dall'alto verso sinistra Un quarto Al contrario Vabbè Non li si usa molto Però sarebbe stessa cosa Ma verso l'alto E ovviamente anche qua Applicato E determinato Dalla direzione del corpo Nello specifico Quindi partiamo come sempre Con Neymar Verso la porta Verso l'alto Quindi analogico Verso destra Fa due Le skill così Analogico verso sinistra In questo modo Quindi Semplicemente Le fa nella direzione O comunque Con l'intento Di andare in quella direzione Però poi per direzionare Effettivamente L'uscita Dal doppio passo E quindi Prendere anche Il boost Di velocità Bisogna fare Il doppio passo E poi con l'analogico sinistra Semplicemente Uscite Ok Cioè dovete Semplicemente uscire Con l'analogico sinistra Nella direzione In cui volete uscire Per uscire Dalla finta Quindi Analogico verso destra Per andare verso destra Analogico di sinistra Verso sinistra Per uscire a sinistra So che sono molte parole Guardate Giù il controller Io ora faccio Un quarto di luna Per fare l'analogico Verso destra E poi direziono Verso sinistra Per uscire Ok Vedete In questo modo Direzionate l'uscita E direzionate Il doppio passo Ricordo poi Che è molto importante Anche la direzione Del corpo Quindi se state andando Verso avanti Ok Semplicemente dall'alto Verso il basso E direzionate Se state andando A sinistra Ovviamente è Da sinistra Verso destra Ok Quindi dovete sempre Ricordarvi Di direzionare il corpo Ora per dire Sto andando Verso destra Quindi da Da destra Lo fate Verso il basso Verso l'alto Dovete sempre direzionare Rispetto a come È posizionato il corpo Poi ovviamente Ci sono tantissimi Modi di usarlo Quest'anno sono molto efficaci Quindi io vi invito A imparare a usarli Si possono anche fare Con la corsa Con la corsa Si allungano un po' di più Il pallone Però insomma Beccano un bel boost Di velocità Se lo fate molto bene E poi andate anche Per dire al tiro Questa è una finta Molto importante Al momento sono molto veloci E' probabile che poi Col tempo Le depotenzino Però al momento Sono veramente molto efficaci Queste finte sono molto utili Per mandare fuori tempo All'avversario O per prendere In area di rigore Magari il passo necessario Per entrare poi al tiro In questo modo Poi tirate subito Una volta entrati In area di rigore In area di rigore E può essere anche Molto utile Per liberarsi Smarcarsi E mandare qualcuno Fuori tempo Dipende Lo potete usare In tantissimi modi Dovete essere bravi Voi a leggere la situazione Però principalmente Io lo utilizzo Per saltare l'uomo Sull'ultimo tocco E poi andare subito al tiro Oppure posizionarmi un po' meglio Per tirare Oppure magari Per prendere spazio Mentre l'avversario Mi deve rincorrere E liberare magari Qualcun altro A cui passerò il pallone O per semplicemente Muovere gli avversari E portarmeli dietro Ora una delle finte Più importanti Di quest'anno È già stata un po' Depotenziata Non so se lo sarà Ancora di più Però è tuttora Molto importante L'è sempre stata Ma quest'anno Si è rilevata Rivelata Molto molto interessante Ovvero l'elastico L'elastico come vedete Si fa con mezza luna Non un quarto Quindi il doppio Della lunghezza Rispetto al doppio passo Però in questo caso Si parte da Metà analogico Ok Se volete farlo Quindi in una direzione Si fa così O nell'altra si fa così Ricordate che se volete Farlo verso sinistra Partite da destra E fate Diciamo questa mezza luna Nella direzione In cui volete uscire Se invece volete fare L'elastico al contrario Quindi farlo verso destra Partite da sinistra Fate un quarto Questa mezza luna E la fate verso destra Ora andiamo a vederla Nello specifico Così capite meglio Ok Quindi siamo con Neymar Come sempre Solita direzione Verso il portiere E noi vogliamo fare L'elastico verso sinistra Quindi quarto di luna Lo fa verso sinistra Ok Stessa cosa Dalla parte opposta Noi siamo con Neymar Verso la porta Lo vogliamo fare destra Guardate giù Un quarto di luna Verso destra E ci liberiamo Quindi questo è molto Molto semplice In realtà Come finta È più la praticità E l'abitudine A imparare a utilizzarlo Ma come finta È veramente molto semplice Stessa cosa Ricordo la direzione del corpo Noi adesso per esempio Siamo verso sinistra Quindi partiremo Dall'alto E faremo la mezza luna Verso il basso Quindi ricordate Partite verso destra Andate a sinistra Se siete verso l'alto Se ovviamente siete Verso sinistra Partite dall'alto Andate verso il basso Se siete invece Verso destra Allora partite sempre Vabbè dall'alto Verso il basso Dal basso verso l'alto In base ovviamente A dove volete farlo uscire Ricordate Se volete che l'elastico Esca a sinistra Partite da sinistra Andate verso destra Se partite da destra Per farlo uscire a sinistra Invece Quindi Questo elastico Molto molto semplice Molto efficace Ci sono tanti casi In cui è efficace utilizzarlo Può essere efficace Per dire Dopo una finta di tiro A stop Fate l'elastico E andate al tiro Può essere efficace Dopo Un'altra zona In cui secondo me È molto interessante L'efficacia Può essere Io cerco sempre Di concatenarla Quindi magari Che ne so Faccio un Buon roll E poi faccio L'elastico In modo da Mandare fuori tempo E non dare Punti di riferimento All'avversario La concatenazione A quello serve In genere Per dire Adesso sono in questa direzione Nella faccia verso il basso Esco di là E poi tiro Ovviamente Adesso io ho sbagliato Però insomma Il senso è Questo elastico È molto importante Per mandare Nell'uno contro uno Fuori tempo All'avversario Un avversario Che magari è statico Un avversario Che magari Ti sta lasciando Un determinato spazio E per entrare In quello spazio Velocemente L'elastico È molto interessante Perché Manda fuori tempo All'avversario Nella direzione E poi entra Nella direzione In cui effettivamente Volete entrare Quindi è molto utile Davanti l'area È molto utile Per smarcarsi Personalizzate Ovviamente Situazione in situazione La finta Forse più facile In assoluto È il bridge Che qua Bridge Bridge Non so bene Come si dica Però insomma Qua viene chiamata A gira l'avversario Premi due volte RB 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 Quindi due volte R1 Questa finta Vi allungherà il pallone Farà passare il pallone E il giocatore correrà Diciamo Girando l'avversario Lasciando quindi L'avversario Su se stesso E prendendo velocità E evitando l'avversario È una finta Che se utilizzata In maniera corretta È incredibile Perché È super automatica E evita l'avversario E vi porta al tiro Per dire Io devo una zona In cui la uso molto Quando sono nell'1 contro l'1 Con l'avversario C'è un po' di spazio È fondamentale ragazzi Ci sia un po' di spazio Per voi il giocatore Perché se no Ve la intercetta Faccio il bridge E poi tiro Ora L'ho fatta a caso Però in sostanza In area di rigore Questa è molto interessante La fate quindi Davanti al giocatore Lo saltate E poi andate al tiro Generalmente Questa è sempre gol La zona in cui Secondo me È più interessante Utilizzare Quando siete vicino Alla luna Diciamo Che c'è fuori Dall'area di rigore In questo modo E lo saltate Arrivate qua E poi tirate E da questa posizione Il portiere Non ve la parerà mai Dovete prendere le misure In modo che Dopo quei due o tre metri Non ci sia lo spazio Per l'avversario Di intercettarla Questa non serve Assolutamente indirezzare Niente La fa in automatico Se voi siete Col corpo verso l'alto La farà verso l'alto Se siete con il corpo Verso il basso La farà verso il basso Poi ci sarebbe La finta di tiro Che neanche troviamo Troviamo solo La finta di tiro A uscire Perché ovviamente La finta di tiro È la finta Più banale del mondo Ma ci sono tanti modi Per utilizzarla La finta di tiro È molto interessante Perché c'è La finta di tiro Tradizionale Quindi state correndo Mollate la corsa E saltate il giocatore No? Quindi è la classica Finta di tiro Quindi che dovete fare Semplicemente premendo Prima X e poi A O prima B e poi A Ok? Dovete scegliere voi Io se vi posso dare Un parere personale Indipendentemente Ai vostri tasti La farei col cross La finta E quindi una finta di cross Perché il tiro Comunque non lo potete fare In tutte le zone del campo E potrebbe qualche volta Baggarvi Invece il cross Bene o male Lo puoi fare in tutte le zone del campo E siete sicuri Poi la finta di tiro È molto interessante Perché quest'anno Vi fa prendere un bel boost Di velocità Se la fate bene Quindi per dire Prendete la palla Siete in questa direzione E la fate in diagonale Se la fate Vi prende Tipo in questo modo Vi prenderà un bel boost Di velocità E difficilmente L'avversario Recupererà la velocità Se sarete passati Ora è stato anche Quello un po' nerfato Però insomma È interessante L'altra finta di tiro Molto importante È quella fermare Vi basta semplicemente Premere la finta di tiro E non premere nient'altro Quindi finta di tiro E nient'altro Oppure con RB Però io vi Che la fa un po' più velocemente Quindi con RB La fa un po' più veloce Se no la potete fare Anche semplicemente Con così Qua non serve indirizzare Semplicemente si fermerà Su se stesso E si gira Se è girato O se è già Nella direzione giusta La finta di tiro Poi è molto interessante A concatenare Quindi per dire Finta di tiro Poi crocchetta I tiri Può essere utile Per saltare il portiere Per andare al tiro Normale È una finta Molto facilmente Da concatenare E se siete bravi A concatenarle Anche questa È molto interessante Da essere una finta D'inizio Poi per posizionarsi meglio Per andare al tiro Ma andare fuori tempo Agli avversari Altra finta Molto importante È lo scoop turn Che sarebbe la finta di tiro Trascinandosi il pallone Quindi questa qua Dovete farla Molto semplicemente Premendo la finta di tiro E facendo anche qua Una mezza di luna Di analogico In direzione In cui volete andare Ci sono due cose Molto importanti Qua a sottolineare Se avete un giocatore Con 4 style skill La saprà fare Solo da fermo E non in corsa Quindi per dire Siete fermi E la fa Se invece avete Un giocatore Tipo Neymar È in grado Adesso l'ho fatta male Però è in grado Di farlo Come vedete Anche in corsa Di conseguenza In questo modo Con giocatori come Neymar Come Cristiano Ronaldo Avranno modo Di fare lo scoop turn Anche in corsa Prendendo lo spazio Il tempo E velocità Invece I giocatori Con 4 style skill La potranno solo Fare da fermo E ovviamente Questa è un po' limitante Perché ovviamente La potranno fare Solo in determinate Situazioni Questa finta Secondo me È molto interessante Da utilizzare In varie situazioni Quando magari siete Di spalle Con il giocatore Alle spalle Che vuole togliere La palla Fate lo scoop turn Dal lato in cui Non vi sta marcando E poi andate subito Al tiro Quindi siete in area Di rigore Vi arriva la palla Siete spalle Alla porta Avete il giocatore Alle vostre spalle Fate lo scoop turn Uscite Tirate praticamente Subito Questo praticamente Quasi Se per gol Se lo fate molto bene Perché poi uscirete In una direzione Perfetta Per tirare Può essere anche Utile per passare In mezzo ai giocatori Quindi puoi andare Direttamente al tiro Può essere utile In corsa Per prendere Velocità Se avete un giocatore Con 5 stelle skill È utile anche Per prendere magari Spazio E poi andare A un passaggio Può essere utile In tantissime situazioni Ovviamente Applicate in base Alla vostra Conoscenza del gioco Guardando L'avversario Come si comporta Ovviamente Non sto a ricordarvi Che in base A dove guardate Con il giocatore Cambia anche Il modo in cui Dovete direzionare L'analogico Altra mossa abilità Secondo me Molto importante Questa qua Come vedete Per chi ha mosse Da 4 stelle Il heel to heel Che sarebbe Colpo di tacco Come qua è chiamato Banalmente colpo di tacco Sarebbe tacco tacco Qua sotto vedete Anche la bicicletta Che è un 4 stelle skill Che poi andremo a vedere Che è un'altra Che andremo a vedere A breve Quindi tacco tacco Bisogna fare Con l'analogico Destro Verso l'alto È una finta Veramente molto Molto semplice Molto interessante Prendere spazio E poi magari andare al tiro Oppure concatenarla Con magari Prima una finta di tiro O altre finte Ma è una finta Che vi permette Insomma Di smarcarvi E andare al tiro Da giocatori Soprattutto che sono statici Magari siete davanti All'area di rigore E non volete fare Altre finte Fate il heel to heel E poi andate al tiro Questa è una finta Molto interessante Se volete farla Per andare direttamente al tiro Anche qua State attorno A questa zona qua Della mezzaluna Però in generale Questo è molto utile Quando siete uno contro uno Per smarcarvi E prendere lo spazio E poi anche la velocità Se lo volete fare In altri modi Potete fare i doppi passi E poi farlo Che prenderà più velocità Oppure potete farlo Dopo che siete fermi Quindi magari vi fermate E uscite con il heel to heel Che prende subito velocità Oppure fate un bon roll E poi un heel to heel Potete applicarlo In tantissimi modi La finta però Di sé per sé È molto banale Quindi faccia davanti al portiere Su e poi giù Se siete verso sinistra Ovviamente Sinistra Destra Ovviamente dovete applicarlo In base alla direzione Cioè ovviamente La direzione cambia Il modo in cui dovete farlo Perché Dovete sempre ricordarvi In che posizione È il giocatore In base a dove guarda In questo modo Questa finta Vi permette di prendere Uno spazio Sui giocatori Che avete di fronte Abbiamo visto poco fa La bicicletta La bicicletta È molto semplice Anche questa Invece che essere Su giù Come nel caso Delle heel to heel È basso Alto alto Quindi basso Alto alto In questo modo Farà passare la palla Sopra la testa Del giocatore Però di base La bicicletta È molto importante Ci sono giocatori Che la fanno più veloce Giocatori che la fanno più lenta Anche questo è dipendente Dalle statistiche Ed altre cose Però mediamente Se la fate Tipo davanti L'area di rigore Saltate il giocatore E poi andate al tiro Questi sono tiri Che in foot Si segnano molto spesso Io di fatti Ho fatto un macello di gol In questo modo Perché Neymar Che io utilizzo Ha una bicicletta Poi a sé stante Perché è un po' più veloce E ha un'animazione diversa Perché era l'animazione Che ha fatto lui In una partita Se riuscite a fare Questa finta Su un giocatore Che ha un minimo Di stacco da voi Voi immaginatevi Comunque La traiettoria Della bicicletta Quindi vedete Che si fa passare La palla sopra la testa E vedete Che arriva Dopo un certo tempo Per terra No se ovviamente Fate la bicicletta E in quel punto In cui si alza la palla C'è la testa avversaria Ve la intercetta Ma se lo fate Con il giusto spazio Dall'avversario E con un avversario statico Lo salterà E vi creerà Una situazione complicata Però Inoltre Ricordate anche Che dopo la bicicletta Voi potete mettervi A palleggiare Infatti Con l'analogico destro Se continuate a fare Verso l'alto O verso sinistra In una direzione In cui volete andare Andrà avanti A palleggiare Se l'avversario Dopo la bicicletta Vi avrà aspettato Davanti Voi ve ne uscite Con un palleggio Dall'altra parte E poi andate al tiro Ci sono tanti modi Usarla Perché la bicicletta Vi permette anche Inoltre Io la uso anche Nei passaggi Quindi magari Sono in fascia Salto il giocatore E poi do un passaggio Verso sinistra Perché prende un tempo Che manda fuori tempo Gli avversari Prima ho detto Per sbaglio Una cavolata Comunque Quando fate le BRB Verso il basso Non è il dragback Ma non so perché In quel momento Ho pensato al dragback Li tete assieme In pratica Si lancia la palla indietro In questo modo Ovviamente anche questo Direzionato È una finta comunque Non male Interessante In alcune situazioni Quando magari Volete prendere Un attimino Un boost di velocità Magari la fate Poi fate un Un'altra finta Ci sono tantissime Alte robe Che potete fare Mentre per quanto riguarda La crocchetta La crocchetta Si fa semplicemente Tenendo premuto L1 LB E l'analogico Con il borroll Quindi borroll Più L1 Barra LB È molto molto semplice Lo fate Nella direzione In cui volete uscire Dalla crocchetta Quindi se volete fare La crocchetta Verso destra Fate L1 Analogico Verso destra Crocchetta Verso sinistra L1 LB E analogico Verso sinistra Quindi borroll Nella direzione In cui volete uscire Più LB Quello vi permette Di fare la crocchetta E di mettervi In un'altra posizione Per andare al tiro Questa finta Secondo me È utile Solo in alcune situazioni Quindi magari avete fatto La finta di tiro E poi fate La crocchetta E andate al tiro Oppure può essere utile Se andate sul fondo E l'avversario Vi sta dando Un determinato spazio Anche qua Prendete lo spazio E fate il passaggio Quello è un'altra situazione In cui io lo utilizzo Moltissimo Poi ultimissima finta Che dico giusto per È il dragback Molti di voi Non sanno Come si fa quest'anno Dovete premere L1 E R1 Quindi LBRB E la direzione In cui volete farlo Quindi per dire Io lo voglio fare Da fermo Faccio semplicemente L1 R1 Se invece Voglio uscire a sinistra Indirizzo verso sinistra Quindi L1 R1 Avanti L1 R1 A destra L1 R1 Indietro Cioè dipende Dove voglio andare Ok L'RB È comunque utile Il dragback Perché vi permette Di smarcarvi In alcune situazioni Dove magari Non sarebbe sempre Semplice Ovviamente Non sempre È utile Però mediamente È interessante Quindi Spero ragazzi Questo video Vi sia stato utile Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Se l'ho fatto bene Perché non ho mai fatto Un tutorial sulle skill Se non avete capito qualcosa Scrivetemelo Che provo a rispondervi Nei commenti A risolvere i vostri dubbi Iscrivetevi E ci vediamo Nel prossimo video Bella a tutti